Salve a tutti, sono Vita Mansueto, gestisco assieme alla mia famiglia la nostra azienda, il nostro allevamento zootecnico in agro di Mottola e sicuramente da valorizzare la nostra presenza qui in fiera. Questo perché? Perché la conduzione è una conduzione familiare, quindi siamo tutti partecipi, come vedete anche le figure femminili nel 2019 finalmente noi ci siamo. Come vedete qui gli animali sono in un ottimo stato, quindi dobbiamo sicuramente sottolineare quello che è il benessere animale perché ormai ne parliamo così tanto, vengono controlli nelle nostre aziende, la prima cosa che chiedono è il benessere animale, dov'è il benessere animale? Il benessere animale è questo, l'alimentazione dell'animale, l'alimentazione ma in modo particolare quelle che sono le cure che vengono sottoposte, quindi meglio trattiamo i nostri animali e meglio mangeremo. Sono Carla Logreco, è un'azienda in agro di Turi, sono responsabile di un'azienda familiare, abbiamo mio fratello e mio padre a capo dell'azienda. Abbiamo la produzione di erba medica che favorisce un valore aggiunto al nostro bestiame e quindi favorisce anche il benessere dell'animale. Applausi Grazie 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 a tutti.